in genere i fermenti lattici vivi e i probiotici sono considerati sicuri per la salute umana e quindi in linea teorica non destano particolari problemi in termini di effetti collaterali se il loro utilizzo è ragionato e non improvvisato e non si assumono per periodi troppo prolungati quando non è necessario tuttavia ci tengo a precisare che i fermenti lattici e probiotici in casi rari e particolari possono causare importanti effetti collaterali come la sepsi e l'endocardite questo tipo di infezioni si riscontra con maggior frequenza in determinati gruppi di persone che vi lascio in questa tabella e in particolare parliamo di pazienti immunocompromessi come i malati di AIDS i pazienti in terapia immunosoppressiva i malati dell'eucemia i pazienti che hanno subito trapianti d'organo i malati cronici che utilizzano cateteri indovenosi o nutrizione parenterale gli anziani le donne in gravidanza e i pazienti malnutriti come possono essere i neonati prematuri in tutti questi casi l'utilizzo dei probiotici va attentamente monitorato da personale medico qualificato e bisogna quindi escludere categoricamente tutte le terapie fai da te infine come ho già spiegato nel video dove ho parlato dei fermenti lattici per il trattamento della diarrea ad antibiotici che vi lascio nelle schede voglio ricordarvi che i fermenti lattici possono acquisire e trasferire farmacoresistenza agli antibiotici ad altri batteri e siccome è un rischio importante e di cui si sa ancora poco il mio consiglio è fare estremamente attenzione all'utilizzo dei fermenti lattici durante le terapie antibiotiche questo ve lo dico perché in europa la situazione per quanto riguarda la resistenza agli antibiotici non è proprio così serena e quindi qualsiasi potenziale rischio che possa determinare un aumento della farmacoresistenza va monitorato e soprattutto ridotto spero che questo video vi sia piaciuto se avete delle domande o delle curiosità potete farmi nei commenti oppure scrivermi a infochiocciola voxalcorporation.com come sempre vi invito a iscrivervi al canale condividere i contenuti e lasciare qualche like e noi ci vediamo al prossimo video grazie